Al San Matteo di Pavia c'è l'unico centro italiano di studi e trattamento chirurgico di una malattia rara, la Rendu-Rösler-Weber, che provoca sanguinamento dal naso, causato da malformazioni dei vasi sanguini. Una patologia invalidante che può richiedere anche trasfusioni e ricoveri in ospedale. Una patologia sottovalutata dalla maggior parte delle persone, che invece può coinvolgere altri organi vitali, come il polmone per oltre il 20% dei casi, il fegato per il 15% e anche il cervello. Una malattia che provoca gravi disagi per la vita lavorativa e sociale. A Pavia arrivano da tutta Italia numerosissimi pazienti che arrivano da altre strutture, al centro di studi e trattamento più avanzato del paese. Nell'ultimo anno presso l'istituto di ricerca sono state ricoverate più di 100 persone, un numero altissimo se consideriamo che la malattia è stata classificata come rara. Il paziente viene dapprima sottoposto ad una visita specialistica all'endoscopia nasale. Successivamente viene eseguita un'indagine genetica e lo screening per la ricerca delle malformazioni al polmone, fegato e cervello. L'intervento chirurgico-endoscopico, peraltro minivasivo, oggi è la scelta terapeutica più efficace, spiega Fabio Pagella, responsabile della struttura semplice di endoscopia rinosinusale del San Matteo, perché i tentativi eseguiti con i farmaci espongono a effetti collaterali anche molto rischiosi.